Sì, è da stabilizzare, nel senso che, come diceva giustamente Cattaneo, i risultati sono molto eterogeni sul territorio e all'interno di questi risultati chi fa politica deve saper leggere le note positive, anche le note negative chiaramente, ma quello ci pensate in maniera molto puntuale voi come giornalisti a farcele notare, però per ricostruire, per stabilizzare un'offerta politica che sia alternativa tanto alla sinistra quanto a quello che va di moda adesso, cioè al Movimento 5 Stelle, bisogna leggere i dati positivi. I dati positivi sono, e qui mi distingo un attimo dall'analisi di Cattaneo sul fatto dello spostamento dell'asse troppo a destra, non è un problema di troppo a destra o troppo al centro, è un problema di solidità di offerta, cioè nel momento in cui tutte le forze alternative alla sinistra, che non si riconoscono nel Movimento 5 Stelle, riescono a mettersi d'accordo e riescono a dare un'offerta credibile in termini, e non dimentichiamo che sono elezioni amministrative, quindi c'è anche una componente forte della credibilità della persona che deve essere del territorio, deve essere conosciuta, deve essere stimata. Comunque quando si riesce a fare questo, così come è successo ad esempio a casa mia a Ravenna, dove abbiamo ottenuto un risultato storico, si è perso al ballottaggio ma di pochissimo, ma in una roccaforte del PD che mai e poi mai qualcuno pensava anche solo di poter portare al ballottaggio solo tre mesi fa. Quindi quelle sono note positive e da lì bisogna ripartire. Il dato di fatto è che nessuno deve intestarsi in questa fase qui la titolarità della leadership del centro-destra, ma bisogna... cercare una sintesi, questo è un dato oggettivo. Quali sono? Ho pochi minuti.